Per me ormai qui è come essere a casa, sono di Roma, però l'Eco è speciale, il posto, la gente, i tifosi mi vogliono tutti bene, se oggi sono ancora qui è anche grazie a loro. Questo ormai è il quinto anno, è un motivo d'orgoglio per me, ormai è come giocare per la città del mio quartiere. Mi sono sposato una ragazza di Lecco, i miei figli sono nati qui, questa è la città che mi ha adottato e io cerco di ripagare questo amore, questo affetto ogni domenica in campo. Essere settimo nella classifica dei marcatori di tutti i tempi è uno stimolo in più per cercare di fare i più gol possibili sotto la Norde che è sempre una magia. non sarà facile perché c'è un po' di gap, tra me e quelli davanti, ma ce la metterò tutta. A un turista consiglierei prima di tutto di venire a tifarci e vedere il nostro splendido stadio, poi di fare una passeggiata per le nostre montagne oppure di visitare il centro storico col suo splendido matitone. Io sono Lecco. Abbiamo finito? No Ricci, l'ultima cosa, mi devi dire qualcosa in Lecchese. Non ti preoccupare, che pensi miei. Mo' basta però, eh. No. 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 Grazie a tutti.